che punti all'eternità non l'ho mai fatto con nessuno lavoro alla radio da 27 anni volevo farlo per la prima volta posso avere un tuo autografo? certo non l'ho mai fatto con nessuno non l'ho mai chiesto un autografo a nessuno grazie mille grazie mille è un onore per me fare tutti questi autografi live live mi puoi scrivere per Andonio con la D va bene ci tengo Andonio menso bacio Andonio ad Andonio Andonio grazie grazie ti vogliamo bene sei grande grazie a voi un bacione a tutti